Una cerimonia particolarmente toccante e densa di significati, quella organizzata per il 4 novembre anche a Fano con un'alza bandiera nella darsena borghese con l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia e Carabinieri in veste di organizzatori. Lo squillare della tromba durante l'alza bandiera ha attirato anche molti passanti che hanno assistito alla cerimonia affacciati dalla terrazza della darsena. Poi è seguita la deposizione di una corona al monumento di Viale Buozia, tutti i caduti da parte delle autorità e del primo cittadino a seguire. Poi la messa in duomo con il vescovo Armando Trasarti, terminata con la preghiera in suffragio a tutti i militari. A Pergola invece a celebrazione del centenario della vittoria della Grande Guerra hanno coinciso con l'inaugurazione della mostra al Museo dei Bronzi Dorati sulla prima guerra di indipendenza italiana con l'intervento di figuranti in divise d'epoca a cura dell'Accademia di Opologia e Militaria di Ancona con una salva di uffici d'epoca risorgimentale.